Ciao a tutti, sono Truccio Baldazzi, malato mentale come voi sapete. Io oggi voglio svelare una cosa molto importante sul fatto nel mio passato, che io oggi mi sono svegliato con un passato molto forte, io volevo spiegare tutte le mie difficoltà che ho avuto a scuola. Nonostante che io ho avuto un disturbo oppositivo, provocatorio, nonostante che ero immaturo, non riuscivo a stare al passo con i miei coetanei, i miei compagni di classe. Io fin da piccolo, dalla prima elementare, non riuscivo a capire nemmeno la parola studiare. Studiare per me non so cosa significa, non so niente da anche adesso, non so nemmeno cosa voglia dire, studiare. Io da piccolo ho sempre dovuto fare le cose per gli altri, ho sempre fatto delle cose, ero costretto, da piccolo non c'era altro perché non hanno capito, ovviamente gli insegnanti, i miei problemi, le mie situazioni psicologiche. Io ero molto immaturo, soprattutto non sono riuscito a studiare cucina. Il mio sogno da piccolo era fare un aiuto cuoco, cuoco ovviamente. Non sono riuscito perché, nonostante gli studi, di cinque anni non ho riuscito a imparare niente. La mia situazione è stata che è stata colpa delle medie che mi hanno fatto il culo, mi hanno fatto veramente il culo, mi hanno preso con maniere forti, punizioni, minacce, umiliazioni, che sappiamo benissimo ovviamente. Dopo un po' è successo che io, io la licenza media ce l'ho ovviamente, e anche pure sono stato promosso, tutte le cose, anche se non ho imparato niente, dopo un po' alle superiori, io ho provato a cercare di studiare cucina, ma dopo la situazione mi ha annoiato, nonostante non sapendo niente. Io da piccolo voglio dirvi, la cosa che voglio dirvi è che io non ho mai letto un libro, non ho mai aperto un libro, sfogliarlo, vedere, leggere quello che c'è scritto, e anche e soprattutto capire quello che c'è il significato di una frase, di quello che c'è scritto ovviamente. Io da piccolo non sono riuscito mai a leggere un libro, a capire un libro, a leggere, già ho problemi con la vista, metto gli occhiali perché ovviamente sono mio per astigmatico, e ho problemi di dichiarato cono, ovviamente questo lo voglio dire, ovviamente. Soprattutto, nonostante che questo, io a leggere faccio fatica, anche pure a capire la punteggiatura, io disturbi della lettura l'ho avuto sempre. Io quello che voglio dirvi è che a scuola, all'alberghiero, non c'è stato, cioè è andata bene da un punto di vista, che non c'erano delle improvvi, delle minacce, delle cose così da fare nel culo come alle medie. Alle superiori, all'alberghiero, mi hanno fatto i raddoppi di cucina, che io in cucina ero bravo ovviamente, però il problema è stata la teoria, la teoria mi annoiava, sapevano che mi annoiava, e non l'ho fatta, l'ho fatta poco, mi hanno fatto più andare in pratica, che in teoria in cucina. Tuttavia io non ho imparato niente, ho imparato pochissimo, fra poche pratiche che ho avuto in cucina, anni, io ho avuto, ero immaturo, ero molto ma molto ingenuo, non riuscivo a stare al passo con gli altri, questo se lo avrò detto o no, e soprattutto ero vivace, poco, però nelle condizioni non riuscivo a rendermi conto che quella cosa che stavo facendo non è che lo facevo per me, lo facevo per loro, perché io per far capire che ero bravo, però della cucina non ho riuscito a studiarla bene, interessarmi, essere partecipe, essere sveglio, attento, concentrato, con la concentrazione, l'attenzione, ho avuto sempre delle difficoltà. Tuttavia voglio dirvi ragazzi che io non sono riuscito a studiare cucina anche con questi cinque anni, c'erano molte cose da sapere perché è difficile. Io già col mio peso, che pesavo 150 kg, ero goffo, ero molto goffo, ero molto grasso, il doppio di quello che ero adesso. Io adesso sono cresciuto, però di peso sono molto grasso, sono di altezza 1,80 cm e peso 157 kg, diciamo 160 kg, come va detto, circa, e nonostante tutto questo, cosa posso dire? Che a me mi dispiace che non sono riuscito a fare il cuoco e l'autocuoco, però delle sfighe che ho avuto da piccolo non sono riuscito a ottenerle perché la cosa che mi ha dispiaciuto è che io sono andato per maloso in terza superiore. Nonostante tutto questo voglio dirvi che non è che c'è stato molto da dire. Io ho avuto insegnanti che erano incompetenti anche lì ma non proprio come le medie. alle medie erano degli stronti, mi hanno fatto il culo, se io dimenticai un compito, mi dimenticai qualcosa, sbagliavo e venivo punito. Gli iniziali superiori sapevano la mia situazione e loro in terza superiore io ero molto per maloso. Me la prendevo male e poi stavo a casa un giorno per ripicca perché loro volevano che io facessi delle cose difficili e facevo delle cose che io loro pensavano che io sapessi fare delle cose difficili invece era più che altro era per io se prendevo lo sbaglio io da questo punto di vista cercavano più una rogna mia uno sbaglio mio per essere cazziato ecco questo è stato quello che ho pensato io ovviamente da tutto questo anno qua quell'anno che c'è stato quegli anni appunto tuttavia è stato terribile perché io ho deciso di fare il rapper da questo punto di vista non l'aiuto cuoco perché nelle mie difficoltà della cucina ci sono tante cose che mi mancano non ho imparato le divisioni a fare i calcoli a mente i matematici tipo 12 per 3 non le so fare queste contare i numeri dei piatti tipo con le moltiplicazioni o non so mai io alle elementari non sono riuscito a studiare le tabelline già lo fanno anche i bambini vabbè però io ho delle grosse difficoltà ho un deficit di attenzione concentrazione soprattutto non sono riuscito a imparare tante cose nonostante tutto questo voglio dire che io non sono riuscito anche alla velocità il peso il fatto di concentrazione con la vista tutto questo ha fatto sì che io in cucina non ci posso più lavorare voi mi dite tanto vai a lavorare vai a lavorare ma il problema qual è che io a lavorare non ci posso più andare soprattutto in cucina non ci bisogna avere i tatuaggi e orecchini e purtroppo io ce li ho e ci sono state le regole quelle io le ho diciamo fottute perché ovviamente è chiaro che io non una cucina non ci posso andare perché io il mio mestiere adesso è fargli il rap l'artista è che quello che voi vedete qua su youtube tutto questo voglio dirvi che non è che io non ho avuto voglia io avevo un segno ritardo a crescere e a maturare tuttavia è successo così perché come mai è successo allora da piccolo ero io sono stato seguito dalla neuro psichiatria infantile e mi diedero loro dei psicofarmaci per stare tranquilli quelli per adulti i farmaci io avevo un effetto contrario l'effetto opposto mi davano brutti effetti collaterali e mi ha dato il peggio di tutto quello che era poi dopo nel corso degli anni fra la BDFY e roba così con antifarmaci diciamo sono riuscito un po' a contenermi con la vivacità imperatività che poi era imperativo vivace e molto e molto e sono riuscito a stare più tranquillo e cercare di seguire quello che mi chiedevano dei superiori appunto quello è stato il fatto che io quello che mi dispiace a me che io non sono riuscito a fare il cuoco e mi dispiace a me perché io purtroppo è andata così non ci sono state delle altre situazioni però mi hanno io volevo ripetere un anno in quinta ma non potevo perché se perdevi i compagni di classe cambiavo i compagni volevo dire a me mi davano un shock terribile così hanno detto la neuropsichiatria infantile e soprattutto loro gli insegnanti non le volevano madre di farmi un altro anno con me mi hanno lasciato andare mi hanno promosso in quinta superiore perché ho fatto pochi anni di ho fatto molte assenze a scuola non c'ero quasi mai e soprattutto non sono riuscito a fare cose pratiche roba così e studiare ovviamente cucina come tutti gli altri e io sono rimasto molto ma molto indietro già matematica non ne so mezza geografia non ne so mezza di inglese non ne so mezza di cucina alcune ricette diciamo tra virgolette riesco fare comunque come un piatto di pasta come una ciugo di pomodoro come la pizza però eccetera eccetera ma non è che ho studiato molto come tutti gli altri miei compagni che avevo in classe ovviamente che non erano come le medie più che altro è stato terribile nonostante tutto questo che non sono riuscito a ottenere nulla però con la musica ho ottenuto tante cose che io comunque voglio averla divincita ancora tutto questo tutto qui comunque ragazzi io vi ho svelato questo spero che vi piaccia questo video e ci sentiamo ciao ciao